Questa mattina siamo stati qui in visita presso il presidio ospedaliero di Pasto, dove era necessario e urgente rendersi conto della condizione strutturale e della dignità dell'offerta sanitaria. Abbiamo con il manager stabilito una scaletta di interventi che sarà a mia cura a seguire e a avere dalla parte della regione il massimo impegno per la soluzione dei problemi.